Ciao a tutti! Allora, in questo pomeriggio uggioso, in realtà era Mastro e Piano, piccola palestesi, però il tempo fa schifo e sinceramente non ne vale la pena. Quindi stamattina, mentre compravamo le cose per il pranzo, ho visto questo e ho detto perché no? Innostriamoci già direttamente in autunno e ho scoperto, perché già l'ho aperto, che ci sono anche i virottini! Non aprire! E Franci l'ha aperto! Ne soppure. Arruggo. Quindi prepareremo questo, bisogna aggiungere solo le uova che abbiamo comprato. Il time della cosa già spacchettata. Allora, qui abbiamo, come hai detto prima, i virottini, io convinta che non ci fossero. Infatti il nostro piano era farlo gigante. Eh, perché qui sta scritto, però non ci avevo fatto caso. E poi abbiamo... Quindi li useremo questi. Zucchero a vero pure! E poi preparato. Allora, dopo aver letto 40 volte le istruzioni perché non mi erano chiare, versiamo la miscela. Ok. Due uova. Ragazzi, questa è la consistenza. Ci sono anche le gocce di cioccolato dentro. Sembra molto buono. Wow! Comunque l'utilità mia... Ragazzi, ora è il forno. È il momento. Per il momento. Se tu avvi... Sì, scusami. Il forno, io il tutto dentro. Sì, scusami. Il forno, io il tutto dentro. Un odore di cioccolato uso. No, di dolce proprio. Si presenta così. Allora, sì, in teoria si userebbe il colino per filtrarlo. No, vabbè, i bracci. E' pronto? Sì. Vabbè, lo ziccherò, lo ziccherò meglio. Ora proveremo. Vai, ti inquadro. Ora assaggiamo. Sembra molto buono. Vabbè, guarda la lingua. No. Molto buono. No, se si è sbloccata. Infatti sì. La farò sempre, soprattutto in inverno. Con i film di Harry Potter. Questo è dolce d'inverno. È buonissimo. Ci vediamo alla prossima ricetta.